Buon pomeriggio a tutti, vi rinnovo il nostro benvenuto su Alma Social TV, il nostro training broadcaster, sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris Business School. Sono davvero lieto di essere qui con voi per presentarvi, per introdurvi verso l'evento formativo gratuito acquistate per assistere. Vediamo il nostro più caloroso benvenuto sulla nostra Alma Social TV, nella nostra sezione No Win Master con eventi dedicati all'approfondimento su quelle che sono le tematiche relative ai master di alta formazione della Business School o come in questo caso ai corsi di alta specializzazione. Appunto ci rivolgiamo in questo momento al corso di alta specializzazione in Quality Assurance. Oggi parleremo di Data Integrity, un approccio delle aziende, una panoramica sulla gestione dati critici GXP in campo, in questo campo e della data governance sull'approccio nelle aziende farmaceutiche. Lo faremo con la dottoressa Francesca Di Piero, che ho il piattere di introdurvi. Buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Buonasera dottoressa. La dottoressa è una delle docenti che compongono la facoltà del nostro percorso, un percorso dal taglio pratico operativo, appunto il cui programma annovera anche la sezione di cui si occupa la dottoressa Application Services Manager, Delivery Manager e anche CSB Consultant. È laureata in informatica e comunicazione digitale, ha conseguito anche un master HCM con gestione del capitale umano mediante la tecnologia SAP. La finalità di questo evento formativo gratuito è quella sicuramente, ovviamente, di divulgare le tematiche, appunto, le conoscenze riguardanti questa particolare branca del sapere, questo particolare approccio che adottano le aziende, ma anche al contempo condividere un po' la portata e il taglio delle nostre attività formative. A tale riguardo vi rimandiamo anche alla pagina del corso di cui stavamo parlando, appunto Quality Assurance e GMP nell'industria farmaceutica, ma anche in questo caso ai nostri corsi di alta specializzazione, per avere anche una panoramica in cui illustriamo tutte le caratteristiche dei nostri percorsi formativi che, appunto, contemplano anche questa tematica e tante altre tematiche molto interessanti per il mondo del lavoro di oggi. Adesso, tuttavia, non vorrei, appunto, rubare tanto tempo alla dottoressa Di Piero, troverete gli stessi link in chat brevissimo e adesso lascio la parola alla dottoressa. Perfetto, io vado in condivisione del mio schermo. Ok, come ha anticipato il collega, oggi ci occuperemo della data integrity e in particolare dell'approccio che hanno le varie aziende verso, diciamo, tali aspetto che risulta essere di fondamentale importanza oggi nell'ambito farmaceutico e non solo. Sono stata già presentata, sono Francesca Di Piero, Project Account Manager CSV, esperta in ingegnerizzazione dei processi. Anch'io, come voi, ho fatto, seguito un corso in Alma Laboris qualche anno fa che mi ha consentito di raggiungere la qualifica che attualmente utilizzo per la convalida dei sistemi computerizzati. Infatti, ho raggiunto a pieni voti, diciamo, il diploma in monitoraggio dei processi e controlli di qualità. Nasco come informatico, sono laureata in informatica e comunicazione digitale. Nel tempo di venuta, grazie alle esperienze e al portfoglio di clienti di impronta delivery manager, esperto nella validazione dei sistemi computerizzati e dall'anno scorso sono anche membro ISPE. Oggi nello specifico parleremo della definizione delle GMP e le diverse tipologie di Good Manufacturing Practice, la definizione dei dati GMP critici e la loro valutazione, la definizione dei dati integriti e i principi su cui si basa il dati integriti, il focus sugli enti regolatori, in modo particolare l'FDA, requisiti dei dati integriti, le tipologie dei dati ed esempi concreti, sia per record cartacei che record elettronici, la situazione nelle varie aziende e gli approcci che vengono adottati nei confronti della complianza dei dati integriti e alla fine conclusioni e riflessioni. Preferisco darvi un'infarinatura sulle Good Manufacturing Practice perché partendo dalla loro definizione e tipologia arriveremo pian piano al concetto dei dati integriti e agli approcci adoperati dalle varie aziende in questo settore. Le Good Manufacturing Practice, dette anche GMP, sono le pratiche di buona fabbricazione che sono costituite da un insieme di regole che descrivono metodi, attrezzature, mezzi e gestione delle produzioni per assicurare gli standard di qualità appropriati. Sono state sviluppate in primo luogo per i prodotti farmaceutici e la loro applicazione si stende a tutti i prodotti health-related, quindi alimenti, dispositivi medici, derivati biologici e cosmetici, per cui il campo è abbastanza basso come potete immaginare. Tale approccio inizia a diffondersi anche nel campo legale e forense. Quali sono le componenti fondamentali dell'ingempi? Anzitutto documentare tramite apposite registrazioni ogni aspetto del processo, ogni attività ed ogni operazione, utilizzare personale che abbia ricevuto un'apposita formazione, occuparsi attivamente di pulizia e sanitizzazione, verificare con regolarità il buon funzionamento degli strumenti e dei macchinari e inoltre conoscere, controllare e validare i processi. In questa slide vi ho riportato un po' di normativa di riferimento a livello europeo e americano. I principi e le linee guida dell'ingempi sono stabiliti in due documenti principali a livello europeo. La prima è la direttiva 91.412 che è appunto relativa alle pratiche di good manufacturing per i prodotti medicali di uso veterinario e poi la direttiva 2.394 che sono le principali linee guida della good manufacturing per i prodotti medicinali e di uso umano e per i prodotti medicinali di uso umano nella fase sperimentale. Una guida alle good manufacturing practice che consiste nella loro interpretazione è disponibile poi come volume 4 dell'Eudralex della Commissione europea. Negli Stati Uniti invece i documenti di riferimento sono quelli che vedete, il 21 CFR, Code of Federal Regulation e poi la sezione 210 e 211 rispettivamente relative alla produzione, processo, confezionamento o detenzione dei farmaci per i prodotti farmaceutici finiti. Esistono diversi tipi di GMP. Le CGMP, le Current Good Manufacturing Practice, denominate semplicemente GMP, si riferiscono al fatto che per essere conformi ai principi delle Good Manufacturing Practice bisogna utilizzare sistemi e tecnologie aggiornati, quindi Current. Poi abbiamo le Good Distribution Practice, cioè le pratiche di buona distribuzione che garantiscono che la qualità del medicinale sia mantenuta attraverso tutti i passaggi della distribuzione, ovvero da quando viene prodotto dal fornitore fino a quando arriva in farmacia per la vendita al pubblico. Dopodiché abbiamo le Good Laboratory Practice che come potete intuire dal termine si riferisce alle buone pratiche di laboratorio e garantiscono la qualità dei dati ottenuti e proteggono la salute umana e o dell'ambiente, consentendo anche la condivisione di dati scientifici tra i vari paesi del mondo. Le Good Clinical Practice, le pratiche di ricerca clinica e uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgono soggetti umani. Da ultimo troviamo, e molto importante, le Good Documentation Practice che costituisce la parte essenziale di un sistema di qualità e hanno un ruolo chiave per operare in complianza le GMP. Il principio su cui si basa la complianza documentale è documentare tutto ciò che si fa. Se non è scritto o è scritto male, può nascere il dubbio che non sia stato fatto o che sia stato fatto nel modo inadeguato. Quindi fai quello che è scritto, scrivi quello che fai, se non lo scrivi è come se non l'avessi fatto. Perché, diciamo, le aziende devono aderire ai requisiti richiesti da le GMP? Il rispetto dei requisiti delle normative, ovvero quella che sentirete più volte dire la compliance, è un obbligo dell'azienda farmaceutica che vuole garantire la soddisfazione del cliente e l'idonietà del proprio prodotto rispetto allo scopo per cui è stato progettato. C'è un intero capitolo delle GMP che è dedicato proprio alla documentazione e alle Good Documentation Practice. Cosa intendiamo però per dato GMP critico? Non esiste una definizione vera e propria del dato critico in ambiente GMP, cioè non viene data, lo possiamo dedurre dalle linee guide di riferimento. Ad esempio, una linea guida della VDA e VDE 3516 in riferimento a Rodata dice appunto che il dato critico è un dato che ha un potenziale intatto sulla sicurezza del paziente, sulla qualità del prodotto e sul data integrity. L'EPICS Good Practice per la gestione e l'integrità dei dati ci riporta alcuni esempi, ad esempio il dato critico, le compresse ad usorale, il dato del titolo API e generalmente di grande impatto per la qualità e sicurezza del prodotto come la sua friabilità. Oppure l'impatto e l'importanza dei dati può influire sulla decisione da prendere, quindi devo valutare bene quale decisione è influenzata dei dati, ad esempio la decisione del rilasso di un lotto, i dati che determinano la conformità sono critici in quanto definiscono la qualità e risultano più importanti di un report riguardante la pulizia di un magazzino. Quindi diciamo da poche frasi presenti dalle guidelines relative alle GMP possiamo dedurre la definizione del dato critico, quindi il dato che ha un impatto sicuramente sulla sicurezza del paziente, qualità del prodotto e integrità del dato. La valutazione delle criticità dei dati GMP è un'attività di fondamentale importanza. I dati e le loro criticità devono essere valutati tenendo conto della sicurezza del paziente, come abbiamo visto prima, della qualità del prodotto e deve essere garantita anche la review dei dati. Infatti a livello europeo le GMP e Dralex dicono appunto che deve essere in atto un sistema di controllo con osservazione speciale sulle eventuali modifiche sui dati critici. e l'annex 11 dice appunto che il controllo accurato per i dati critici inseriti manualmente deve essere previsto un controllo aggiuntivo sull'accuratezza dei dati. Ora, questi due ultimi punti che vi ho letto nella sezione valutazione forniscono le basi legali per la revisione dei dati critici inseriti. Una seconda persona quindi deve verificare l'accuratezza dei dati oppure deve risultare essere necessario utilizzare sistemi computerizzati validati. Ma vediamo un po' cosa intendiamo per dati integriti. Si parla di integrità del dato ma l'integrità dei dati è definita come la misura in cui tutti i dati GMP sono, quindi partendo dalla definizione che vi ho dato dei dati GMP, quindi tutti i dati GMP sono completi, coerenti e accurati per tutto il loro ciclo di vita. Una qualità scadente dei dati o pratiche che minano l'integrità e la vulnerabilità di record delle prove potrebbero in qualche modo compromettere la qualità dell'intero processo. Quindi le buone pratiche di gestione dei dati si applicano a tutti gli elementi della qualità farmaceutica. Le misure di dati integriti si applicano allo stesso modo ai dati elettronici e ai dati cartacei. La responsabilità della buona gestione dei dati è ovviamente del produttore o distributore che hanno il dovere di valutare i potenziali rischi dei loro sistemi ma anche la loro vulnerabilità in modo da adottare e progettare delle misure adeguate alla buona governanza dei dati in modo da garantirne e rispettarne l'integrità nel tempo. A livello europeo, americano e internazionale ci sono delle guide di riferimento. Quali sono queste normative? Una ve l'ho già citata prima le Eudralex volume 4, le Good Manufacturing Practice e poi l'Annex 11 che parla proprio dei sistemi computerizzati. Nel territorio americano abbiamo il CFR 21, Code of Federal Regulation e la parte 11 che riguarda proprio i record elettronici e le firme elettroniche. A livello internazionale abbiamo le PIX, le MCRA, le FDA e l'EMA che per chi non lo sapesse le VDI, la Food Drug Administration, la più antica agenzia governativa americana che ha il compito di tutelare e di proteggere i consumatori e l'EMA è l'Europe Medical Agency e l'agenzia a livello europeo. Quali sono le caratteristiche del data integrity? Quindi partendo dalla definizione del dato GMP, il data integrity ha lo scopo di verificare che i dati GMP, considerati GMP rispondono a queste caratteristiche che vi ho riassunto in questa slide. L'integrità dei dati si riferisce alla completezza, coerenza e accuratezza dei dati. Dati completi, coerenti accurati devono essere attribuibili, leggibili, contemporanei, originali o copia fedele degli stessi e accurati. Ecco, abbiamo in questo modo definito l'acronimo dell'ALCOA che è la base dei dati integrity. Attribuibile nel senso che l'identità della persona che effettua una registrazione deve essere inequivocabile. Chi ha fatto cosa? Quindi il cosa risponde alla domanda leggibile, quindi dato leggibile, tracciabile e permanente. Contemporaneo, le attività devono essere registrate nel momento in cui sono eseguite o accadono. Originale, prima acquisizione dei dati, dato unico e univoco. Deve essere quello realmente registrato o una sua copia conforme. Accurato, le registrazioni devono essere valide e prive di errori, nessuna modifica deve essere eseguita senza una giustificazione, senza una valida motivazione. Come si ottiene la compliance, quindi l'aderenza a questi principi cardine? Tramite la qualifica della strumentazione ad esempio di laboratorio, la convalida dei sistemi computerizzati, l'audit e le ispezioni, la revisione dei dati, la gestione delle devazioni K, le K sono le corrective action e preventive action, cioè il sistema di azioni di qualità necessarie ad eliminare le cause di una devazione, le non conformità e a fare in modo che non accadano più nel tempo e poi attraverso l'attuazione di un sistema di qualità. In queste slide vi ho riportato l'aderenza dei record cartacei elettronici ai principi cardinelle data integrity. Quindi per il principio di attribuibile, quindi chi ha compiuto qualcosa sistema, i record cartacei riportano le iniziali, le sigle del proprio nome e cognome o la firma per esteso. I record elettronici invece aderiscono al principio dell'attribuibilità di un record mediante le attività di logon, quindi accesso al sistema tramite credenziali di accesso, user ID e password o firma elettronica. Chi ha fatto cosa? Il dato deve essere leggibile, abbiamo detto è permanente, ok? Quindi nei record cartacei non dobbiamo avere l'utilizzo della matita, la matita sappiamo benissimo che è cancellabile, è volubile, quindi non va assolutamente utilizzata, piuttosto abbiamo un inchiostro indelebile, non devono essere utilizzati correttori o scarabocchi, ma è possibile fare delle correzioni GMP che consistono nel barrare con una linea un determinato dato che va datato, quindi settata la data in cui avviene la correzione GMP e la firma con la reason della correzione. E poi ovviamente abbiamo l'archiviazione delle registrazioni. Per i record elettronici invece il tutto viene automatizzato al salvataggio del record, quindi sistema salvi il record a sistema, non esistono overwriting, sovrascritture, non esiste il concetto di cancellazione, i dati non possono essere cancellati se non archiviati e comunque devono essere sempre reperibili, tutti i cambiamenti sono sottoposti ad audit trail e vengono utilizzati backup periodici e funzioni di archiviazione. Principio della contemporaneità, quindi abbiamo detto che le attività devono essere registrate nell'istante medesimo in cui accadono, quindi per i record cartacei non è possibile retrodatare i record, i documenti, proprio perché deve essere coerente il dato, niente precompilazione deforme e bisogna registrare la data, eventualmente anche la ora dell'attività nel momento in cui viene eseguita. Nel record elettronici invece il tutto avviene tramite automatismo del sistema per cui i dati sono salvati subito dopo la loro creazione, non è possibile cambiare la data e ora dei pc del software e occorre sincronizzare data e ora col server centrale. originale, quindi abbiamo il dato in prima acquisizione e unico e univoco e deve essere quello realmente registrato e non una sua copia conforme. I record cartacei come rispondono a questo criterio? I moduli originali delle registrazioni sono revisionati e per quanto riguarda le copie certificate deve essere presente la fotocopia, il file PDF e devono essere equivalenti alle originali devono riportare la dicitura, il trimbo, true copy, copia quindi conforme. Nei record elettronici anche i record originali devono essere revisionati dall'apposita funzione e nelle copie certificate abbiamo il backup dei file e devono essere equivalenti anche in questo caso ai record originali e comprendere i metadati. L'accuratezza consiste appunto che le registrazioni devono essere valide, prive di errori e nessuna modifica deve essere eseguita se non dietro giustificazione. Nel record cartacei abbiamo una revisione incrociata dei dati, quindi abbiamo una riconciliazione manuale dei dati, nei record elettronici invece i dati vengono acquisiti dal sistema, c'è un eventuale inserimento manuale da parte dell'utente abilitato e poi abbiamo la convalida dei sistemi computerizzati che garantiscono che niente può essere modificato e tutto è soggetto ad audit trail. Oltre a questi principi l'Alcoa ne ha introdotti altri 4 e per questo prende il nome di Alcoa++ quindi completo, consistente, permanente, disponibile. Completo perché il dato deve essere completo di tutta la documentazione correlata alla sua generazione, cioè di tutte le informazioni necessarie. quindi nel record cartaceo questo si traduce col fatto che la modulistica deve riportare tutte le informazioni per iscritto. Nel record elettronici tutti i dati relativi ai metadati associati sono storati a sistema, memorizzati a sistema. Consistente, la sequenza dei dati e degli eventi deve essere consistente in termini di operazioni con date e tempi che chiaramente dimostrano che la formalizzazione è stata eseguita rispettando la contemporaneità degli attività. Quindi nel record cartaceo abbiamo detto appunto che le date, gli orari e i dati sono allineati agli eventi. Nel record elettronici invece il sistema guida alla sequenza degli eventi da eseguire e in automatico ovviamente viene registrata la data e l'ora in cui sono eseguiti. Permanente, quindi enduring, utilizzare supporti adatti al mantenimento e alla protezione dei dati nel tempo in tutto il loro ciclo di vita che nel record cartaceo si attualizza con l'archiviazione dei faldoni cartacei, nei record elettronici invece vengono conservati in un formato leggibile. Disponibili perché i dati devono essere accessibili e disponibili quando necessari, ad esempio quando ci sono delle ispezioni, per tutto il loro ciclo di vita. Per i record cartacei questo principio si traduce nel fatto che è possibile accedere agli archivi e recuperare con uno sforzo non indifferente tutta la documentazione ad impatto GMP. Per i record elettronici invece, essendo i dati registrati elettronicamente in un database, sono facilmente e prontamente recuperabili tramite anche semplicemente delle query. qual è il focus degli enti regolatori? L'aspettativa, abbiamo detto qual è, cioè è un'aspettativa normativa che i dati in record GXP siano completi, coerenti, affidabili e precisi e che il loro contenuto e il loro significato siano preservati, disponibili e utilizzabili per il periodo di conservazione richiesto. La preoccupazione che sorge nelle varie aziende è invece relativa alla mancanza di controllo dell'accesso e misure di sicurezza che impediscono modifiche non autorizzate, come ad esempio un logon condiviso, controlli mancanti o disabilitati, la mancanza di registrazione, mancanza della contemporaneità dell'attività, quindi la registrazione dell'istante, dati e ore in cui viene eseguita un'attività, il mancato accertamento delle discrepanze tra i dati, raccolta, conservazione e revisione incompleta dei dati, ma soprattutto l'aspetto di maggiore interesse dell'agenzia FDA è relativo alla sovrascrittura o cancellazione dei dati originali, che abbiamo detto essere non ammissibile per i principi dei dati integriti, e la falsificazione dei dati stessi. Ho raccolto in due slide il warning letter data integrity, cioè l'andamento delle lettere di wearing dell'FDA sul data integrity, del warning del data integrity, scusate. Non è un caso che un chiaro aumento c'è stato a partire dal 2010, quando l'FDA ha iniziato ad includere l'integrità dei dati nelle proprie ispezioni di pre-approvazione, rendendolo uno dei principali obiettivi dell'ispezione nel programma di conformità dell'FDA. In quest'altra slide, invece, vi ho voluto riassumere le principali osservazioni riscontrate sul dato integrity dall'FDA. La più comune, circa il 67%, è relativa ad aspetti importanti che vanno a violare il dato integrity, vale a dire dati incompleti o record mancanti, esempio di un dato rielaborato più volte e rappresento solo una volta, oppure non tutte le iniezioni di una sequenza erano riportate, permessi inappropriati, zero livelli di privilegio, utenti con livelli di privilegio inappropriato, come ad esempio diritti di amministratori e sistemi di controllo inadeguati che consentono modifiche su risultati da parte degli utenti, cosa che abbiamo detto che il dato non è modificabile, ma deve essere registrato tal quale nel proprio sistema. Quindi, quali sono i requisiti della data integrity? I controlli per il data integrity dovrebbero garantire che l'accuratezza, la completezza, il contenuto e il significato dei dati siano mantenuti per tutto il loro ciclo di vita. Dovrebbero essere applicati i principi dell'Alcoa e Alcoa Plus, il sistema di gestione dei dati dovrebbe essere parte integrante del sistema di qualità, comprendere e conoscere il proprio processo e le tecnologie per valutare ed identificare i rischi su cui lavorare. Le attività di gestione dei dati dovrebbero essere supportate da una cultura organizzativa che impone il data integrity guidato dalla direzione e dai comportamenti umani. Quindi la direzione in modo particolare dovrebbe prendersi la responsabilità principale per il data integrity, considerando le capacità e le limitazioni dei processi, dei metodi, dell'ambiente, del personale stesso e delle tecnologie esistenti e deve anche assicurare successivamente l'allocazione delle risorse necessarie per affrontare qualsiasi limitazione al mantenimento del data integrity. Esistono sistemi basati su dati cartacei, quindi il paper-based systems e sistemi basati su dati elettronici. Un sistema è detto a gestione cartacea quando il dato ad impatto GMP e cartaceo, pertanto può essere stampato da un sistema computerizzato, quindi pensiamo a report o uno scontrino, oppure può essere visualizzato e scritto manualmente come la compilazione di un logbook o compilazione della scheda di analisi in un laboratorio. Mentre un sistema è detto a gestione elettronica quando il dato ufficiale ad impatto GMP è puramente elettronico, quindi il dato viene conservato elettronicamente all'interno di un'infrastruttura e eventuali copie cartacee, true copy, sono copie conformi. Tuttavia il dato originale è sempre quello elettronico. Vi ho riportato alcuni esempi di dati cartacei elettronici a prova dei principi dell'Alcoa e Alcoa Plus. Ad esempio, tra i dati cartacei abbiamo detto già prima lo scontrino, basti pensare una bilancia, un pH-metro da allegare alle schede di analisi e quindi lo scontrino rappresenta una stampa che riporta i dati grezzi che in questo caso sono cartacei. In questo esempio infatti possiamo ritrovare tutti i principi dell'Alcoa. Sigla e data attribuiscono l'analisi ad uno specifico operatore, leggibile in quanto riporta chiaramente i dati grezzi, quindi la pesata da parte della bilancia, contemporaneo in quanto stampato nello stesso momento in cui viene eseguita la pesata, originale perché lo scontrino è univoco, accurato in quanto riporta un dato da uno strumento validato e calibrato. Il logbook, ad esempio, è uno strumento che rappresenta un dato cartaceo. Mentre i dati elettronici, ad esempio, ritroviamo tra i dati elettronici i software di gestione della strumentazione analitica, l'Empower, l'Abix e l'AbGuard, sono esempi di dati elettronici. I dati generati dal software rispettano i principi Alcoa e vediamo come è attribuibile grazie al login personalizzato, quindi è attribuibile chi effettua l'accesso al sistema, leggibile in quanto il dato grezzo è chiaramente identificato all'interno del software, contemporaneo in quanto l'Odit Trail traccia tutte le attività compiute in modo sequenziale, originale in quanto unico e non sovrascribile, accurato in quanto il software è un sistema computerizzato validato. Poi abbiamo il LIMS, che è un software che gestisce tutti i dati riportati sulle schede di analisi, la loro approvazione, e i Change di Viazione e Kappa, software di gestione dei processi della qualità totalmente elettronico. Non mancano però anche i dati ibridi, che sono quei dati che sono generati elettronicamente mediante software, ma per la revisione dell'Odit Trail e del dato stesso viene utilizzata la stampa del riporto. Un esempio è dato dalla gestione dei dati di uno spettofotometro a raggio UV che salva ad esempio la sequenza analitica e il dato grezzo sul PC, ma viene stampato il riporto contenente tutte le informazioni necessarie alla revisione e lo stesso riporto poi viene siglato e firmato sia dall'operatore che dal revisore di analisi, come richiesto dall'EGMP. Anche qui ho riportato alcuni esempi pratici. Datemi un secondo che bevo un sorso d'acqua. In questo caso abbiamo dati grezzi abbandonati. I dati grezzi trascritti su pezzi di carta, tovaglioli, post-it, non rispettano assolutamente la normativa. I dati non sono identificati e trascritti su supporti adeguati. Il tovagliolo, il post-it, diventerebbe sostesso il dato grezzo da legare all'analisi, cosa non fattibile diciamo. I dati grezzi, come uno scontrino, non vanno lasciati senza sigla e data e soprattutto non vanno lasciati volanti. I dati grezzi devono essere identificabili e allegati alle schede di analisi e un suo supporto idoneo. Contemporaneità. La sequenza delle operazioni svolte deve essere registrata immediatamente o comunque il prima possibile in base all'attività svolta. Ad esempio, la sequenza di diluizioni svolte nella preparazione dei campioni va registrata subito dopo aver eseguito l'azione. Sicurezza. Le credenziali di accesso ad un software sono personali e permettono la corretta attribuzione di un'operazione, quindi non può esserci un login condiviso. Non devono essere presenti user e password di accesso generico. Non bisogna utilizzare post-it o fogli per memorizzare la password. Documenti ufficiali. Le norme GMP non prevedono l'utilizzo di fogli non autorizzati e di post-it. L'uso e la distribuzione delle procedure interne, le soppe relative a allegati, è regolamentato. Un documento autorizzato, ad esempio l'allegato ad una procedura, deve essere stampato al momento dell'utilizzo, in modo da garantire l'uso della versione attualmente in vigore del documento. Non bisogna mai fare scorte di allegati o documenti con la lista di distribuzione. Esempi ed esempio di compilazione. Un documento deve essere compilato in ogni sua parte. I campi non necessari vanno barrati, apponendola, date la sigla come mostrato in figura. Mai lasciare quindi spazi vuoti. Sempre per la compilazione, ad esempio, se una casella è stata barrata, come mostrato in figura, non posso compilarla successivamente, in quanto metto in dubbio la veridicità della compilazione. Pertanto, se si tratta di un errore, va barrato, siglato e giustificato. La chiarezza ricordata aiuta sempre e non suscita domande. Come valutare il rischio? Nel valutare il rischio dei dati, occorre prendere in considerazione la loro vulnerabilità, propria insita per natura, la deliberata alterazione e o falsificazione, la loro cancellazione, la perdita o la nuova creazione, la capacità di rilevare e di individuare tali azioni. Bisogna porre attenzione, in modo particolare, alla capacità di recuperare completamente i dati anche in seguito a un evento disastroso. Le misure di controllo che prevengono l'accesso o altre attività non autorizzate che aumentano la loro rilevabilità e visibilità possono essere utilizzate come azioni mitiganti il rischio. Esempi di fattori che possono aumentare il rischio di mancata integrità dei dati includono processi inconsistenti con degli esiti aperti e soggettivi, quindi non oggettivi. I compiti semplici e coerenti sono ben definiti e sicuramente portano ad una riduzione del rischio. Le valutazioni dei rischi dovrebbero concentrarsi su un singolo processo aziendale, valutare il flusso dei dati e la loro modalità di generazione non soltanto nei sistemi informatizzati o complessi ma in qualunque tipo di sistema di qualità. L'efficacia delle misure di controllo dell'integrità dei dati deve essere quindi valutata periodicamente come parte integrante di un'autoispezione o di un'altra revisione periodica dei processi. Questo dovrebbe garantire che i controlli sul ciclo di vita dei dati funzionino come previsto, cioè oltre alle verifiche di controllo dei dati di routine, le attività di autoispezione dovrebbero essere minate ad una più estesa revisione delle misure di controllo inclusi il controllo continuo sul personale, una revisione della consistenza dei dati registrati e dei risultati a confronto con i dati grezzi inseriti, un approccio basato sulla valutazione del rischio deve prendere in considerazione un campione di accessi a sistema o di trail per determinare se le informazioni rilevanti sono riportate secondo le attese. Quindi, volendo riassumere, abbiamo fatto una distinzione tra dati scritti a mano. Quindi, i dati devono essere leggibili, chiari e indelebili. Per quanto riguarda le registrazioni, devono essere contemporanee allo svolgimento dell'attività medesima. Ogni correzione deve essere datata e firmata permettendo di vedere l'informazione originale e deve essere giustificata con una reason. I dati devono essere accurati, completi, coerenti, duraturi, disponibili e attribuibili a un determinato operatore. Quindi, è importante che il logon non sia condiviso in un sistema computerizzato. I dati elettronici devono essere generati e manipolati sui sistemi che hanno subito una convalida. Le registrazioni, lo D3 l'attivo che registra tutte le operazioni effettuate, chi ha fatto che cosa e per quale motivo. Correzioni, ogni riprocessamento o modifica deve essere giustificata con un profilo di accesso più alto, quindi definire diversi livelli autorizzativi con diversi privilegi autorizzativi e i dati devono essere, abbiamo detto, accurati, completi, coerenti, duraturi, disponibili e attribuibili. Quindi, i concetti dei dati integriti nel loro spirito non sono di fatto una novità per il settore farmaceutico. Tutte le normative e le linee guida di riferimento hanno sempre sottolineato l'importanza della documentazione e della loro rispondenza a determinati requisiti che abbiamo visto prima dell'alcoa di accuratezza, contemporaneità, veridicità e attribuibilità. Quindi, di fatto, non c'è nulla di nuovo. Tuttavia, l'argomento dati integriti in questo periodo è un argomento di particolare attualità. Perché il dati integriti? Perché l'integrità dei dati dà sicurezza e fiducia agli utilizzatori e perché, abbiamo detto, garantiscono la compleanza regolatoria e la continuità delle attività. Perché farlo adesso? Perché, a seguito dei risultati delle ispezioni GMP, in cui sono emersi delle palesi violazioni dell'integrità dei dati, questa tematica ha assunto un notevole rilievo e attualità. I risultati dell'ispezione hanno mostrato, come vi ho mostrato prima nei grafici, delle debolezze nella gestione dei dati comuni a molte aziende in tutto il mondo. E poi, perché ora? Perché è una risposta ferma ed incisiva dell'autorità regolatoria. L'argomento dati integriti, in particolare la guida AMCRA, è stato oggetto di revisione, discussione e confronto. Quindi, in questa seconda parte della presentazione, vi riporto un sommario di quanto è stato analizzato. qual è lo stato del dati integriti nei confronti, diciamo, nelle varie aziende farmaceutiche. Sicuramente c'è consapevolezza e attenzione verso gli aspetti del dati integriti e sull'attualità dell'argomento. Tuttavia, ci sono differenti situazioni in differenti tipi di azienda a seconda della tipologia di produzione, delle dimensioni e anche della maturità tecnologica. Tali differenze guidano i differenti approcci e piani di lavoro. Ovviamente c'è ancora molto da fare. Abbiamo detto che quindi le differenze delle varie aziende a seconda della tipologia di produzione, delle dimensioni e della maturità tecnologica si traducono in diversi approcci. Nella diversità degli approcci la linea comune è sicuramente assicurare la rispondenza alla compliance quindi a principio al COA che abbiamo visto prima per tutti i dati generati durante il processo di produzione e riguarda tutte le aree operative quindi produzione, laboratori e magazzini. L'attenzione è rivolta in modo particolare ai sistemi elettronici infatti le tipologie di osservazioni relative ai dati integriti puntano l'attenzione sulla gestione dei dati elettronici sui sistemi coinvolti nella loro gestione. Gli approcci seguiti prevedono in linea con i principi dell'ALCOA l'identificazione di vari sistemi ed una loro valutazione in funzione della complessità e rilevanza per definire le azioni necessarie di convalide e procedura operativa. Il diagramma è particolarmente rilevante in quanto in funzione della tipologia di sistema viene posto l'accento sulla rilevanza o meno di un dato cartaceo e conseguentemente sulle attività di convalide e gestione del dato elettronico. Prima di parlarvi di questo c'è un errore in linea con l'indicazione dell'MCRE abbiamo detto che l'identificazione dei vari sistemi e della loro valutazione si basa su determinate considerazioni quindi il sistema come viene identificato a che cosa serve qual è la sua complessità e il livello di criticità e le attività che vengono in esso eseguite. In questo slide vi ho riportato un esempio di come in funzione della tipologia di sistema utilizzata viene evidenziata la rilevanza o meno del dato cartaceo e conseguentemente le attività di convalide e di gestione del dato elettronico è emerso che la quasi totalità utilizza sistemi che possono essere categorizzati da semplici a mediamente complessi. Generalmente nei laboratori sono presenti la maggior parte dei sistemi computerizzati che generano e gestiscono dati rilevanti per il prodotto. Gran parte degli sforzi si concentrano sui sistemi più complessi in uso ad esempio gli HPLC i sistemi cromatografici in genere e l'analisi HPLC infatti restituisce un risultato il cui rodata dato grezzo è elaborato da software e poi stampato. differenti elaborazioni ovviamente possono fornire differenti risultate e questa prerogativa ne rappresenta la criticità. Il rodata è un dato dinamico suscettibile di essere elaborato tramite un apposito software e perde tale caratteristica una volta stampato. Vi sono altri sistemi di laboratorio seppur importanti e critici ai fini di una caratterizzazione analitica del prodotto che forniscono un output meno suscettibile di elaborazione ad esempio le bilance pH-metri gli spettrofotromiti i granulometri ma quindi la decisione basata sull'analisi dei sistemi sulla valutazione specifica della loro complessità e rilevanza ci dice che i supporti cartaci hanno dimostrato la capacità di garantire la conservazione e trasmissione di informazioni nel tempo rappresentano tuttora la base di molti sistemi in essere i dati elettronici presentano una vulnerabilità tale da richiedere procedure robuste e sicure di backup e di gestione ma quindi cosa accorre fare una soluzione potrebbe essere introdurre dei nuovi sistemi completi dotati di hardware software introdurre nuovi software revisionare le procedure esistenti per definire e gestire gli accessi e i privilegi o di trail dati backupati e data restore formare e sensibilizzare il personale ai concetti dei dati integriti realizzare una procedura robusta che governa la gestione dei dati e poi ovviamente ci sono le best practice e la data governance cosa possiamo dire in definitiva che il dati integriti è sicuramente un argomento attualissimo che sarà presente nei prossimi anni e nelle prossime ispezioni occorre sicuramente focalizzare bene le aree in cui intervenire ovvero laboratorio ma anche altre aree la sua applicazione rappresenta un grosso impegno per le aziende sia in termini economici ad esempio l'acquisto di nuovi sistemi che di risorse implementazione convalida nonché organizzativi e richiede anche know-how e competenze specifiche non necessariamente già presenti nell'azienda l'avvento ovviamente di nuove tecnologie non deve necessariamente passare attraverso una squalifica dei sistemi cartacei che se sono adeguatamente integrati con corrette procedure di gestione robuste possono supportare e garantire l'integrità dei dati l'analisi dei propri sistemi e la luce dei dati integriti rappresenta sicuramente una nuova opportunità per rivedere in chiave critica il proprio sistema di documentazione nulla di nuovo molto di nuovo ma comunque sia c'è molto su cui lavorare il dato il dato integriti quindi repilogando riporta un insieme di comportamenti di base necessaria a garantire la completa disponibilità e tracciabilità del dato riducendo al minimo il rischio di tipo qualitativo del prodotto questo concetto si applica in ugual misura a tutti i processi di carattere GMP che convolgono i diversi reparti del pharma produzione servizi IT magazzino controllo qualità assicurazione qualità ingegneria equipment computer validation quindi possiamo dire che nell'affrontare il dato integriti spesso ci si riferisce al dato elettronico pensando che tutto ciò che rimane cartaceo non sia nello scopo degli assessment in realtà il dato integriti nei suoi cinque criteri chiave che abbiamo visto dell'alcoa si applica ai dati gestiti su carta questo è un errore concettuale molto rischioso perché il dato integriti si applica a tutti i dati indipendentemente dalla loro origine cioè se cartacea o elettronica devo sottolineare appunto che sebbene una gestione cartacea dei dati è più semplice e versatile da realizzare come la stampa dei cromatogrammi ad esempio eventuali manipolazioni e modifiche sono più difficili da rilevare nel caso del cartaceo rispetto a quello elettronico per questo una gestione elettronica è sempre da preferire sia per la sua maggiore sicurezza dovuta ad una più difficile manipolazione sia per una più facile rivelabilità delle modifiche e quindi da preferire alla gestione cartacea l'FDA ha già informato che la definizione di documenti cartacei come dati grezzi non soddisfa più pienamente i requisiti del CFR 21 parte 11 la quale è stata mal interpretata cioè una copia cartacea stampata di un cromatogramma non può essere considerata una true copy del dato elettronico lo stesso principio può essere applicato però in maniera più ampia ad altri dati grezzi questo dimostra che cosa che la gestione cartacea dei dati è comunque da evitare laddove possibile e che i laboratori devono ad esempio evolversi verso sistemi computerizzati per poter garantire un accettabile livello di integrità dei piani un buon piano passa sempre da una priorizzazione che come tutti gli esercizi di semplificazione è contestabile in ogni momento ma l'unica maniera per affrontare un processo estremamente complesso io vi ringrazio per l'attenzione se ci sono domande osservazioni io sono qui per rispondere e renderò disponibile il materiale di presentazione che oggi ho condiviso con voi in questa piacevole ora grazie a tutti grazie a tutti per l'attenzione Grazie a tutti